Negli ultimi decenni la medicina ha compiuto passi da gigante per garantire la salute umana. Mio padre, morto per infarto nel 1969, oggi si sarebbe salvato grazie alla prevenzione e all'introduzione di stente e bypass. Tuttavia non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia e rendersi conto invece che c'è un lato della medicina a dir poco riprovevole ed è quello purtroppo che in nome del profitto considera la malattia un business. Mi riferisco ad esempio al massiccio utilizzo dei cosiddetti screening, ovvero di quelle strategie di indagini diagnostiche generalizzate impiegate per identificare una malattia. Per quanto riguarda la mammografia, la revisione scientifica di ciò che sappiamo suggerisce che per 2000 donne chiamate a sottoporsi a screening sarà risparmiata una morte immatura. Tuttavia, quel che si dimentica di dire è che 10 donne sane riceveranno una sovradianosi di cancro, con 6 asportazioni di un nodulo e 4 mastectomie, mentre 200 donne andranno incontro al rischio di danno psicologico in seguito ad alterazioni riscontrate alla mammografia. Non è un caso che Yona Heath, presidente del Royal College of General Practitioners, abbia gentilmente declinato l'invito a sottoporsi a uno screening preventivo. Inoltre, un ampio studio ufficiale riferito da Lynn McTaggart conferma che il pap test non dà alcun risultato, giacché i tassi di mortalità per il cancro alla cervice non sono variati in due decenni, a dispetto di un programma di prevenzione quasi universale. Molte migliaia di donne sono sottoposte a inutili trattamenti in seguito a risultati falsamente positivi. Uno studio del 1988 ha specificato che quasi la metà delle anomalie rilevate dal pap test si convertiva alla normalità nel giro di due anni. Un recente studio canadese segnala che una semplice infiammazione della cervice potrebbe provocare risultati anomali in un pap test. Il professor James McCormick del Dipartimento di Sanità Pubblica del Trinity College di Dublino, un riconosciuto esperto dei test di campionatura di massa, ha dichiarato «Non c'è alcuna prova concreta che questi test portino dei benefici e in effetti potrebbero fare più male che bene». Anche gli uomini non sono esenti da questi aspetti di mala sanità. Ogni anno circa 30 milioni di maschi americani si sottopongono al test per l'antigene prostatico specifico, PSA, un enzima prodotto dalla prostata. Approvato dalla Food and Drug Administration nel 1994, il test del PSA è lo strumento più comunemente usato per il cancro alla prostata. Tuttavia, secondo Richard J. Ablin, scopritore nel 1970 del PSA, professore di immunobiologia e patologia all'Università dell'Arizona, la popolarità di questo esame ha portato a un disastro enormemente costoso alla salute pubblica. Come cerco di spiegare da molti anni, ha dichiarato Ablin, l'aumento del PSA non è un indice di carcinoma prostatico. Nonostante ciò, gli uomini che hanno presentato un valore di PSA superiore a 4 nanogrammi per millilitro sono stati convinti a sottoporsi a dolorose biopsie prostatiche. In conclusione, abbiamo il Collegio Americano di Medicina Preventiva che sostiene che non vi sono prove sufficienti per raccomandare lo screening di routine. Ci chiediamo allora perché venga ancora usato su larga scala. La risposta è semplice, perché le aziende farmaceutiche continuano a sbandierare i loro test e i gruppi di difesa che hanno interesse in tal senso suonano la sirena d'allarme del cancro alla prostata, invitando gli esseri umani di sesso maschile a fare lo screening. È del 2010 l'ultima dichiarazione del professor Eivlin. Mai avrei pensato che la mia scoperta di 40 anni fa avrebbe condotto a tale disastro del sistema sanitario pubblico basato sul profitto. La comunità medica deve confrontarsi con la realtà e fermare l'uso inappropriato dello screening PSA. In questo modo si potrebbero risparmiare milioni di dollari e salvare milioni di uomini da inutili trattamenti debilitanti. Tutto questo finisce per alimentare un gigantesco indotto di allarme e paura, dal quale è sacrosanto diritto difendersi.